la nostra firma a favore di piccoli grandi cuori è sostegno a favore di piccoli grandi cuori e condivisione la nostra firma a favore di piccoli grandi cuori è condivisione perché grazie a questa associazione abbiamo avuto modo di condividere la nostra esperienza e le nostre emozioni con altre famiglie in modo da sentirci meno soli seppur lontani da casa e adesso abbiamo anche qualche amico in più perché abbiamo conosciuto altre famiglie professionisti con cui condividere la nostra storia di famiglia con un cuore speciale